Bene, per coloro che seguono il nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook, un breve aggiornamento, quasi in tempo reale, sulle novità arrivate in negozio. Partiamo subito con un gioco che si chiama Lord of Hellas, gioco cooperativo da uno a quattro giocatori, ambientato nei secoli bue dell'antica Grecia. Questo gioco è in vendita dal 25 maggio. Insieme è arrivata anche la nuova espansione, sono questa Terran Expansion, sempre per Lord of Hellas, in vendita sempre dal 25 maggio. Poi Leia Organa per Star Wars Legion, anche lei in vendita dal 25 maggio, e sempre il 25 maggio una espansione per Star Wars Rebellion, l'ascesa dell'impero. Bene, vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti. Ciao!